Dopo domani, mercoledì 30 giugno, alle ore 9, è fissato il tavolo tecnico in prefettura con l'ANAS per trovare una rapida soluzione al problema relativo alla strada statale 18 VAR, dove un muro pericolante ha portato ad un restringimento di carreggiata in prossimità del chilometro 104 e 500 nel comune di Agropoli. Ringrazio la prefettura, ha detto il sindaco Adamo Coppola, nella persona del prefetto Francesco Russo e i suoi collaboratori per la convocazione, il consigliere regionale Luca Cascone per l'interessamento e infine ringrazio soprattutto l'ANAS che ha studiato rapidamente diverse soluzioni che porteranno a breve al ripristino del doppio senso di circolazione sull'arteria a scorrimento veloce in modo da porre fine ai disagi.